Ricarico Ricarico Lo esteso, sei salvo Evaluando pa' la rica Bombardamento Siamo colpito Siamo colpito Lancio aereo di mercato Ricarico Settore confermato Qui Nomad 2, lanci mutili in arrivo Ricarico Settore confermato Attacco in casa Ricarico 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 Capo, supporto aereo, subito! Audio 1-2 in posizione. Nemico uscito. Nemico uscito. Nemico uscito. Adesso un rischio da più frattori. A segno. Sì, l'hai pescato. Qui Outlaw, rientriamo per fare rifornimento. Buona fortuna. Ci serve supporto aereo, inviatelo! Capo, supporto aereo, subito! Ci serve supporto aereo. Inviatelo! Autolo 1-3 nell'area operativa. Nemico, via principale. Adesso! Oh, sistemato! Sì, l'hai beccato! Sì, l'hai beccato! Qui Outlaw, rientriamo per fare rifornimento. Buona fortuna. Tempo dovenon la bomba. Nemico! Magazzino! Ne vanno con la coda! Grazie a tutti.